Ben trovati telespettatori di TV6, l'appuntamento con le revisioni meteorologiche per la giornata di martedì 29. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare questa vasta perturbazione di origine artica a interessare le regioni italiane e in particolar modo quelle adriatiche. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di stabilità diffusa associate a deboli precipitazioni, tuttavia date le temperature queste risulteranno nevose fino a quote molto basse se non al piano sull'Abruzzo. Lungo la fascia costiera ci aspettiamo deboli piogge ma non escludiamo qualche fioccata al primo mattino. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche vedranno un primo lieve miglioramento con i ceri che si presenteranno coperti lungo la fascia costiera, tuttavia deboli nevicate continueranno ad interessare le zone interne. La ventilazione risulterà sostenuta dai quadranti settentrionali e mari generalmente molto mossi. Nel corso della serata le condizioni meteorologiche vedranno un ulteriore miglioramento con i ceri che si presenteranno prevalentemente nuvolosi su gran parte del territorio ad eccezione delle zone interne dove avremo ancora deboli nevicate. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie.